ripeti non deve essere lavato, deve buttare tutta la scena il reggisieno della moglie di domenica pure la maglietta di canello mio pure la maglietta di canello mio ti voglio tutta toccita tutta sporca canello mio sicuro non ti lascia da un giro, tu fai 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 e ti entri a schede che non lo fai marì marì vai marì 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 non ti preoccupare, luciano la porta anche a te scusate ma te marì 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 scusate marì scusate marì perché domizi eh scusate guernuda marì Carmela, voglio pagliare il canello, ma lo devi chiedere a Luciano, chiedi la, voglio pagliare il canello, ma gli devi chiedere Luciano, mi porti la, io già oggi, c'è ne vogliono cinta a casa, io direi che è un po' che dispiaciuto, stanno solo nel bambino a casa, un po' che figlia, ho fatto di manenturare il freno, la Luca, per me che puoi scendere un po' di più, io già oggi ho fatto gli strumenti, ho fatto gli strumenti, mi intanto la mia casa con il sangue mi ha chiesto, che c'è ne ancora che piglia? Che età no, Chiooo, rifai, rifai, che ta rifai?